La scuola San Giovanni Bosco di Sernia non otterrà il finanziamento per la riqualificazione dell'impianto sportivo scolastico tramite i fondi del PNRR. Dalla graduatoria pubblicata sul sito del Piano Nazionale Riprese Resilienza Istruzione si apprende che la richiesta di importo pari a 634 mila euro non è stata ammessa. Pochi giorni fa era arrivata la buona notizia del finanziamento di 1,5 milioni di euro per la realizzazione di due impianti sportivi alle piane sempre nell'ambito delle risorse del PNRR Piano Sport e Inclusione Sociale. Esito negativo purtroppo per gli studenti per la palestra della San Giovanni Bosco mentre ancora in baglio da parte del Ministero della pubblica istruzione l'ulteriore parte del bando riguardante l'asilo nido di San Lazzaro. Era stato proprio il sindaco di Sernia Piero Castrataro ad annunciare dapprima la partecipazione al bando e poi le prime notizie positive in linea con quanto promesso alla cittadinanza dalla coalizione di centro-sinistra in campagna elettorale dove grande attenzione era stata riservata al potenziamento delle infrastrutture scolastiche su tutto il territorio comunale. Nell'ambito dello stesso settore la provincia di Sernia che aveva presentato tre progetti si è vista finanziare 310 mila euro per il liceo Giordano di Venafro dove saranno realizzati una pista di salto lungo, un campo polivalente e due campi da padel mentre il comune di Sesto Campano ha ottenuto ben 789 mila euro per la riqualificazione della palestra esistente.